Inventavamo, ovviamente, la sconchita perché probabilmente erano troppo stanchi e loro invece infatti e infatti, e poi non c'è stato niente da dire oggi. Oggi, nonostante la squadra venisse da un quattro riservo esterno e chiaramente con una stacchezza aggiuntiva per un viaggio molto lungo, e abbiamo giocato un giorno dopo l'Alessandria, non potevamo avere chiaramente le stesse dirige, però abbiamo ritrovato una squadra che ha lottato subito da noi, che ha concesso pochissimo e che nel momento nostro migliore, dove potevamo fare di male, abbiamo subito un gol sul caccio d'Alessandria. Questo è l'ammarico per non aver preso un punto al meglio e per aver fatto una buona prestazione senza concedere neanche all'Alessandria. Grazie a tutti.